Tra l'Università degli Studi di Cagliari, l'Azienda Tutela della Salute Sardegna e l'Associazione Arti ODV sta rilevando informazioni utilissime sul contagio del Covid-19 in Sardegna, evidenziando che una sequenza ancestrale di geni tutta sarda protegge dal virus. Sentiamo. Il contagio del Covid-19 in Sardegna prosegue inesorabile alla sua corsa, ma meno delle altre regioni d'Italia. I numeri attestano una mortalità sul 2%, ovvero la metà rispetto alla media nazionale, e un indice RT tra i più bassi. Anche la positività agli anticorpi anti-Sars-CoV-2 nella popolazione sarda, pari allo 0,3%, secondo i dati Istat del 3 agosto, poneva la Sardegna agli ultimi posti in Italia come popolazione entrata in contatto con il virus. Questi dati potrebbero essere collegati alla chiusura repentina dei porti e degli aeroporti dal 9 aprile al 15 giugno, alle misure di distanziamento sociale, all'uso delle mascherine e a tutte le altre strategie messe in atto. Ma non solo. È nato uno studio volto a ricercare quei fattori clinici e immunogenetici che potrebbero spiegare la bassa incidenza di infezione di Sars-CoV-2 e di quadri clinici gravi e mortali del Covid-19 in Sardegna, dato che ormai è dimostrato che la popolazione sarda, a seguito dell'insularità, presenta caratteristiche genetiche omogenee e peculiari. Il progetto di ricerca, denominato Corimun, è stato coordinato dall'immunogenetista Roberto Littera, da Marcello Campagna, docente di medicina del lavoro, insieme a loro Andrea Perra, docente di patologia generale, e Luchino Chessa, il docente di medicina interna. Un importante contributo al progetto è stato dato da Silvia Deide e Goffredo Angioni, rispettivamente pneumologa e infettivologo dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Immunology e dal lavoro è emerso che nella popolazione degli individui infettati è assente un particolare assetto genetico caratteristico della popolazione sarda, una sequenza ancestrale di geni denominata aplotipo esteso, che risulta quindi protettivo nei confronti dell'infezione. In altre parole, le persone che lo presentano sembrerebbero non ammalarsi di Covid-19. Tra le altre caratteristiche studiate, risultato avere un effetto protettivo il fatto di essere portatori di beta-talassemia, il gene mutato che determina la talassemia o anemia mediterranea e aver effettuato la vaccinazione influenzale nella passata stagione.